2 Grand Master Alessandro Merlotti con Raffaele Mutera e Fabio all'angolo match senza paratibia e esordio per Raffaele lo sfidante Anthony saluto i giudici Ramwai per i tuoi atleti Musera molto concentrato medaglio voglio fare la telecronaca si incastra il Moncon ragazze li hanno messo per Moncon grande ma è i tre scudi di avanzamento come ti chiamano i tre scudi quelli quando fai messa l'inverso? che lo scudo? come cazzo si chiama? Raffaele Ramwai completa la preghiera del maestro con il suo allievo toglie il Moncon oh adesso pronti eh regate ti fa un tipo da panico dai carichi eh il maestro dagli ultimi consigli all'atleta ma rega faccia la telecronaca ci vuole si ci vuole sul video esatto io gli ho fatto la telecronaca vaffanculo sul video gli ho fatto ecco il maestro inserisce il caschetto l'avversario mi sente pronto cattroia rega che ansia che mi sta a salire senza paratibia esordio di Raffaele del suo sfidante fa fare la telecronaca a me viene più bello senza paratibia fammi le cose professionali oh caricalo questa senza paratibia grazie a tutti 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 Grazie a tutti